Ah, è la sorella! Porco! Attenzione! Seguiamo questa azione del Napoli! Il Napoli d'attacco! Forse c'è il gol del Napoli! Lo abbiamo sentito live, a me ne è successo qualcosa! Anghissà! Anghissà! Lo botca! La palla filtra! C'è il Milan adesso in attacco! Attenzione ragazzi! Attacca adesso il Milan Ibrahim Dias al limite dell'area di rigore Palla per le A con Ibrahim Asiato Milan Bocca a sordo! Chianese, tu dici in diretta Ma che sei scemo? Tu dici gol con l'Asiato Milan Chianese ma si è sultano Milano Chi ha segnato? Chianese ha segnato Milano! Tu hai sulto! Chiani ma non so! No ragazzi, perché noi stiamo guardando la partita Napoli è in attacco, tu mi hai chiamato Pensavo che l'avessi segnato in Napoli Invece è segnato in Milan Madonna, Asiato Milan